Se vi piace il progetto di tradurre Manly P. Hall in italiano, vi prego di supportare il canale attraverso una donazione libera. Troverete il link in descrizione. Utilizzare queste nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale è molto costoso, richiede tempo ed astuzia per poter ottenere risultati soddisfacenti. Il mio obiettivo con il progetto Manly P. Hall in italiano è rendere la conoscenza esoterica fruibile a tutti gli italiani, senza barriere linguistiche. Grazie per il vostro supporto. La Luna ha sempre affascinato l'umanità e sembra esercitare un'influenza straordinaria su questa parte psichica e intuitiva della nostra natura. L'abbiamo associata all'immaginazione. Abbiamo riconosciuto fin da tempi molto antichi che la presenza della Luna e il suo rapporto con il nostro pianeta hanno influenzato fortemente la Terra ed alcuni fenomeni ad essa connessi con i quali abbiamo costantemente familiarità e che sono diventati parte della nostra vita quotidiana sono dovuti all'influenza della stessa. L'uomo antico ne riconosceva gli effetti sulle maree. Si rese conto anche che essa modificava la nostra crescita sulla Terra e che l'agricoltore considera da tempo l'influenza della Luna nella semina e nella coltivazione della Terra. La Luna ha anche una forte affinità con il ciclo umano di generazione, enfatizzandone la sterilità e la fertilità ed ha anche creato cicli di atteggiamenti negli uomini. Ciò ha provocato strane distorsioni della nostra immaginazione emotiva, risultando nella sua associazione con la follia, che è stata a lungo conosciuta come lunatismo o mal di luna. Nell'antico periodo storico, babilonese e a Siro la Luna, era chiamata peccato, dal termine sin in inglese. Questa parola non aveva il senso del maligno come lo conosciamo noi, era semplicemente il nome di una divinità, il Dio Luna. Tuttavia, col passare del tempo, questa divinità della Luna venne associata alle delinquenze dell'uomo e il peccatore divenne colui che era sotto l'influenza del Dio Luna. Essere sotto l'influenza del Dio Luna significava che si era sviluppata una sorta di follia. E tra i nostri primi scritti a Siro babilonesi troviamo alcuni interessanti consigli morali al riguardo. Un vecchio prete C dice che è ovvio che il peccato è follia perché ogni individuo che fa il male deve essere pazzo altrimenti non lo farà. Ciò è un'affermazione piuttosto ampia. In altre parole, il ladro, il bugiardo, l'avaro, il criminale e anche l'individuo che commette piccoli errori fanno queste cose sotto l'incantesimo della follia perché chiunque sia sano di mente deve sapere che non può riuscire nell'impresa di fare del male. Pertanto, a meno che l'uomo non sia malato, non farà del male. Questo forse non è solo il nostro modo di vedere la cosa, ma è un punto interessante che forse merita una piccola considerazione. Il dio luna tra queste persone aveva un ruolo molto importante da svolgere perché era anche associato all'immaginazione o alla visualizzazione e gli antichi ritenevano fortemente che l'ispirazione o la rivelazione spirituale avessero a che fare con la luna. La luna ovviamente governava la notte e la notte era il tempo delle visioni, dei sogni e di quelle strane esperienze di sonno di cui gli esseri umani erano consapevoli da tempo e che per secoli non sono stati in grado di identificare razionalmente. Così, quando arriva il tempo della luna, gli uomini lasciano questo mondo ed entrano in una sorta di incoscienza che può essere turbata da sogni e fantasmi. Questo era anche il momento in cui nelle loro visioni e nella loro immaginazione i morti, o cari ormai defunti, giungevano a loro dove gli spiriti vivevano mentre gli uomini dormivano. Così, nella notte, vive un mondo invisibile un mondo che non è altro che l'estroversione della parte psichica dell'uomo. Nel mondo antico, l'uomo era sveglio nella luce e dormiva nell'oscurità. Le grida della giungla intorno a lui, le ombre che non era più sicuro di poter identificare, il selvaggio, lo strano, l'ignoto lo invadevano e l'oscurità era uno specchio che rifletteva le sue stesse paure e fuori di se stesso si affollavano tutti gli agenti, i fattori e i valori rinchiusi che la sua coscienza quotidiana teneva sotto controllo. Così l'uomo, di giorno era oggettivo, controllava la sua vita ma di notte il suo soggettivo lo controllava e non aveva punti di riferimenti con cui orientarsi. Quindi, in questi lunghi periodi di oscurità, era più o meno liberato e le sue paure interiori, i suoi valori, le sue speranze, i suoi disastri, i suoi problemi, le sue preoccupazioni, i suoi dolori, si manifestavano tutti. Questi acquistavano il sopravvento durante la notte e venivano respinti nuovamente con l'avvento del giorno quando la luce illuminava un'altra serie di responsabilità oggettive. La notte era quindi l'era del soprannaturale. Il giorno era l'era del naturale e naturale e soprannaturale si succedono in una sequenza infinita nel corso della vita. Questa sequenza era il modo per bilanciare l'individuo. Naturalmente, egli, l'uomo antico, presentava enormi problemi ma manteneva un certo rapporto tra la sua vita interna ed esterna. Finché questo rapporto continuava, era molto improbabile che soffrisse di esaurimenti nervosi e cose del genere. Aveva una certa liberazione psichica. Ora, in questa liberazione psichica, gli si presentavano tutti i tipi di apparizioni e tutti i tipi di riflessioni interiori. E alla fine, arrivò alla conclusione che su tutto questo mondo di fantasia regnava il disco scintillante della grande divinità lunare. L'uomo antico scoprì che nella notte, in contrapposizione al giorno, accadeva un curioso fenomeno che non era in grado di affrontare. Durante il giorno il sole sorgeva, si muoveva nel cielo e tramontava apparentemente a ovest. Dunque l'apparizione quotidiana del sole era regolare ma l'apparizione notturna della luna non era regolare perché la luna aumentava di luce per circa 14 giorni e poi diminuiva di luce sicché vi erano alcune notti in cui la luna si vedeva solo come una mezzaluna e altre notti in cui non si vedeva affatto. Quindi c'era un movimento ciclico della luna. L'uomo antico rispondeva a questo movimento ciclico e sembrava sperimentare nella sua stessa natura difficoltà insolite durante la luna nuova e la luna piena. Anche oggi, l'esplorazione e la ricerca sostengono qualcosa che indica l'esistenza di uno schema di flusso e riflusso psichico nell'uomo. Non molto tempo fa ho letto alcune statistiche sugli incidenti sui ponti della Baia di San Francisco e il rapporto era che, per ragioni sconosciute, questi incidenti avevano periodi massimi approssimativamente durante la luna nuova e piena. Perché nessuno sembrava saperlo? Gli istituti psichiatrici hanno registrazioni simili secondo cui la luna nuova in particolare è più eccitante e irritante per i pazienti. Anche alcuni tipi di disturbi cardiaci hanno sicuramente un ciclo lunare e ci sono numerosi cicli simili evidenti nella vita umana. L'uomo antico credeva quindi che il suo ciclo di vita psichica, seguendo il ciclo lunare, avesse determinati periodi critici e che questi periodi critici fossero particolarmente intensificati dalle eclissi lunari. E viene registrato, ad esempio, che Lord Bacon sveniva sempre quando c'era un'eclissi di luna, indipendentemente dal fatto che sapesse dell'eclissi o no. L'effetto della luna, quindi, raccolse una grande quantità di conoscenze e fu tenuto con insolito rispetto dagli antichi mistici e sacerdoti. Anche le cerimonie lunari erano abbastanza comuni e la divinità lunare è fortemente al centro dell'attenzione tra i popoli antichi, forse più di quanto pensiamo. Che la luna fosse associata all'ispirazione, alla rivelazione, lo sappiamo perché a quei tempi le visite degli uomini nel soprannaturale avvenivano solitamente di notte. È anche curioso, ma forse importante, ricordare che Mosè ricevette le rivelazioni della legge sul monte Sinai. Ciò significa, nella lingua antica, la montagna della luna. Questa era una montagna lunare, riservata anticamente al culto di un culto lunare. Nell'antichità il culto lunare e il culto solare avevano molto spesso istituzioni spirituali completamente separate e il culto lunare aveva quasi sempre a che fare con i problemi più sottili e mistici della vita. Il culto solare aveva a che fare con la forza oggettiva. Quello lunare era il potere e la forza soggettive. Presso molti popoli, la divinità lunare era femminile, ma ciò non era sempre vero in tutti i casi. Era femminile perché si osservava che la natura femminile risponde in modo più preciso e immediato ai cicli lunari, mentre l'uomo sembra reagire positivamente ai cicli solari. I Maya e i popoli dell'America centrale svilupparono sia un calendario solare che uno lunare e metodi per calcolare e perpetuare la conoscenza perché credevano che esistessero due distinti flussi di conoscenza, uno lunare e l'altro solare, e che questi, con la loro unione, da una sorta di generazione filosofica, ha prodotto una forma superiore di conoscenza. Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, i due grandi teologi medievali della Chiesa, credevano che la luna controllasse gli umori, ovvero i liquidi e i gas del corpo umano, e che vi fossero maree nel cervello che concordavano con le maree della Terra, e che in particolare i liquidi nel cervello venivano attratti dal ciclo lunare, per cui certi tipi di energia mentale erano disponibili in un dato momento e altri tipi in un altro. Tutte queste speculazioni vanno sempre più indietro nel tempo fino ad arrivare a quegli antichi bramani dell'India, che furono tra i primi grandi sognatori ad occhi aperti dello spazio. L'India sostiene da migliaia di anni la possibilità di comunicazione tra i pianeti. Molto prima che supponessimo l'esistenza di altri pianeti, essi avevano già tracciato questa probabilità, ed erano già consapevoli in tempi relativamente antichi, soprattutto il buddismo, che non solo esistevano altri pianeti, ma che questi pianeti erano abitati, e che questi abitanti erano in vari luoghi, modi diversi a causa del tipo di mondo su cui si sono sviluppati. Si presumeva quindi nell'antichità che le creazioni fossero influenzate dai loro ambienti, assumendo le forme più naturali e adatte ai climi e alle relazioni dei fenomeni naturali che le circondavano. Che gli altri pianeti fossero popolati non sembrava esserci alcun dubbio. Ora, la posizione in due era questa, vale a dire che il nostro pianeta era relativamente inferiore, apparentemente non aveva proprio l'ego del nostro pensatore moderno. Erano un gruppo più modesto e non ritenevano che rappresentassimo un posto di primo ordine nello spazio. Erano inclini ad avere lo stesso atteggiamento, espresso in seguito da Mark Twain nel suo racconto del viaggio in paradiso del Capitano Stormfield. Il Capitano Stormfield trovò un po' difficile trovare la Terra sulla grande carta nautica nel cielo, preparata per identificare i visitatori provenienti da vari mondi. Alla fine si decise che avevano trovato la Terra, ma non erano sicuri se fosse la Terra o un granello di sabbia. Già 4 o 5 mila anni fa si credeva che la comunicazione tra la Terra e gli altri pianeti esistesse già e che esistesse da molto tempo. In effetti, gli Hindu ritengono che non potrebbe esserci vita su questo pianeta se non ci fosse la comunicazione con gli altri mondi. Supponendo che la vita sia sorta da una forma di perpetuazione appropriata di seme e che quando la Terra emerse dalla prova della nebulosa del fuoco, quando gradualmente venne alla manifestazione, fu prima di tutto completamente sterilizzata dalla tremenda attività vulcanica al suo interno. Di conseguenza, sorse veramente senza creature su di sé e senza alcuna possibilità che fosse sopravvissuta vita all'interno di essa o sopra questa massa fusa di roccia, vita per come noi la conosciamo. Di conseguenza, l'unico modo in cui la vita si sarebbe potuta manifestare sulla stessa è che sia stata portata qui, che sia arrivata qui in qualche modo. Gli Hindu erano dell'opinione che provenisse dalla Luna e che quindi, per quanto riguarda la vita e la crescita, la Luna sia la madre della Terra. Ora, questo può causare qualche costernazione ed essere considerato un'affermazione relativamente poco scientifica, ma vediamo esattamente cosa si intendeva con questo. Supponiamo per un momento di supporre ciò che probabilmente dovremo supporre alla fine, cioè che la Luna, sebbene apparentemente un corpo morto, non è realmente morta. Potrebbe essere morto per quanto riguarda ogni corrispondenza o somiglianza con ciò che chiamiamo vita, ma anche se vogliamo supporre che sia quello che non abbiamo ancora dimostrato, e cioè un cosiddetto mondo morto, sappiamo che riflette la luce del Sole e che a sua volta questa luce riflessa colpisce la Terra. Ora questa luce riflessa, colpendo la Terra dalla Luna, produce una reazione diversa dalla luce diretta del Sole sulla Terra. In conseguenza di ciò, si verificano certi cambiamenti magnetici nelle energie per mezzo delle quali viene illuminata la notte del mondo. Lo specchio della Luna, se così vogliamo chiamarlo, ha il potere di trasformare l'energia, di cambiarla, e di riflettere questa energia in modo diverso dalla luce diretta del Sole, sebbene la luce diretta sia identica nella sua sostanza con quella che si riflette verso la Terra dalla Luna. Quindi, possiamo dire, come nel caso di uno spettro, di essere in presenza di una luce spezzata, come se succedesse qualcosa all'energia luminosa solare quando viene rimbalzata verso di noi dalla superficie della Luna. Che un tale cambiamento avvenga, non credo che possa essere messo in discussione. La ragione di questo cambiamento potrebbe essere di maggiore difficoltà. Una cosa che è stata avanzata è che la qualità è influenzata dall'angolo di rifrazione o di riflessione. Quindi si può dire che il fatto che la luce del Sole colpisca la Luna e poi colpisca ad angolo la Terra sia una delle ragioni per cui la sua velocità vibratoria viene modificata. Ma possiamo anche supporre che nella superficie della Luna ci sia qualcosa per cui i raggi luminosi captano un nuovo fattore di luce. Ad esempio, i giapponesi, in alcuni dei, loro rituali shintoisti, fanno uso di specchi metallici e se si traccia su una superficie di specchio metallico o di qualsiasi altro tipo, un disegno di qualche tipo, come nel caso giapponese un'iscrizione o un simbolo, se si riflette la luce dalla superficie di questo specchio su un muro o un altro oggetto, viene riflesso anche il simbolo. Abbiamo così la teoria secondo cui una forma o un disegno che interferisce con l'uniformità della riflessione dello specchio provoca un cambiamento nell'immagine riflessa. Questo può essere perfettamente comprensibile fisicamente, ma non siamo sicuri che il nostro problema finisca fisicamente. Non siamo sicuri che questa riflessione non sia anche nel campo dell'energia e che esista una riflessione energetica che includa una sorta di immagine astratta, formale, un'immagine qualitativa, di una sorta di condizione energetica, un'energia che non è esattamente come l'energia che arriva direttamente dal sole e anche perché questa riflessione non è coerente ma aumenta e diminuisce ciclicamente. Almeno gli antichi ci dicono che questo movimento ciclico ha una parte enorme da svolgere nella vita interna delle cose e che questa vita interna dipende dalla luce della luna poiché la nostra vita esterna dipende dalla luce del sole. Tutto questo lo stiamo dicendo nell'ambito della speculazione ma, ancora una volta, appartiene a una lunga gamma di riflessioni o pensieri altamente intuitivi. Nella filosofia indiana da molto tempo si esprime il concetto che la vita può muoversi o essere trasportata da raggi di energia. In altre parole, ovunque colpisca un raggio di luce quel raggio di luce è esso stesso un trasportatore di cose. Per gli indiani orientali un raggio di luce è un trasportatore di intelligenza, è un trasportatore di divinità. Può anche formare un ponte sul quale possono muoversi esseri di qualche tipo. Così, come il ponte Bifrost della Scandinavia Nordica, il ponte degli arcobaleni, sosteneva tutti gli dèi tranne il grande Thor che lo scosse fino alle fondamenta. Quindi, nell'antica filosofia indiana, si credeva che la luce costituisse un mezzo di trasporto e comunicazione, che fosse perfettamente possibile per le entità intelligenti spostarsi sulla luce, che fosse perfettamente possibile per G e Lee esseri spostarsi da un pianeta all'altro grazie ai raggi luminosi, e che è anche possibile per G gli esseri intelligenti sul sole controllare e dirigere qualsiasi pianeta per mezzo della luce. Si è trattato di qualcosa che, per quanto ci riguarda, rientra ancora nel campo della fantascienza, ma non abbiamo dimostrato che sia falso. È abbastanza probabile che il graduale sviluppo dei viaggi spaziali ci riveli che alla fine, ovunque vadano i raggi luminosi, noi possiamo andare, e che questo costituisce c'è il tipo finale e più astratto di potere motivazionale, e che tutto ciò di cui abbiamo bisogno in forma di propulsione o trasporto deve essere sostenuto solo dalla luce. Quindi, dovunque segue un raggio di luce, è assolutamente concepibile che nella luce si muova un'onda di vita. Infatti, la luce è una specie di campo energetico di per sé invisibile, e visibile solo quando entra in determinate relazioni atmosferiche. Ma in realtà la luce è vita, è energia, e Gli Induci dicono che tutti i pianeti di un sistema solare sono tenuti insieme da una chimica di schemi luminosi, che la luce del sole fluisce continuamente, e che questa luce è ricevuta da tutti i pianeti in un sistema solare, e anche dai loro corpi luminosi, o lune. Questi pianeti hanno il potere di riflettere la luce, proiettano raggi anche l'uno sull'altro, sono tutti legati insieme dalla luce riflessa, e sono legati al sole, dalla luce diretta. Di conseguenza tutti i pianeti sono sempre in comunicazione in qualche modo. La difficoltà che l'uomo ha sperimentato è stata l'accettazione dell'intervallo fisico senza alcuna considerazione per i vincoli attraverso i quali tutte le cose nello spazio sono mantenute in certi schemi e modelli di relazione. È quindi concepibile, come ci dicevano gli antichi hindù, che tutte queste polarità della luce costituiscano una forma comune di comunicazione, che l'energia proveniente dal sole sia accessibile per tutti i pianeti e che la ricevono anche se attraversa una vasta area dello spazio riflettendone anche parti. Tolte alcune cose da questa luce riflettono il resto e formano quindi a loro volta un gruppo di campi di luce condizionati secondari. Questi a loro volta si mescolano con i corpi luminosi ed i corpi luminosi per gli antichi hindù indicavano un grado di sviluppo sui pianeti e inoltre che la presenza di lune indicava una potente vita psichica negli esseri di quei pianeti. L'assenza di lune indica che questa vita psichica è superata o non si è ancora sviluppata. Pertanto questo interessante modello fece dire agli antichi orientali che fin dai tempi più remoti questa luce nella sua natura spirituale ed essenziale raggiungeva la terra portando in sé le estensioni della coscienza degli esseri. Pertanto si diceva dei rishi o dei grandi saggi dell'antica India che alcuni di loro fossero nati dalle stelle e altri dalla luna. Si diceva che i Petrus lunari gli antenati fossero esseri venuti dalla luna discendendo su dei raggi di luce nei campi qualitativi di queste energie. Si presupponeva anche che questi esseri non fossero cittadini normali o naturali della terra e quindi la influenzassero ma non si mescolassero mai con essa non si identificassero mai con essa. Gli indiani credevano anche che la comunicazione tra altri pianeti tramite onde di energia e questo pianeta abbia provocato l'arrivo qui di certe forme di vita altrimenti non reperibili. Tra le forme di vita che secondo loro provenivano da altri pianeti ci sono le api che non appartengono alla terra. Inoltre ci sono le banane ed il grano. Si dice che questi grandi essere vivificanti siano stati portati con sé dai raggi di energia provenienti da altri pianeti in tempi remoti durante lo sviluppo del nostro sistema solare. Quindi per Gli hindu l'idea della comunicazione tra i pianeti o tra la terra ed il suo corpo luminoso o luna non presentava grossi problemi. La corsa sulla luna dell'uomo si intende comunicazione sotto forma di invasione o comunicazione sotto forma di condivisione. Vogliamo conquistare fisicamente la luna o vogliamo capire interiormente la luna? Conquistare un altro pianeta significa soltanto raggiungerlo e se abitato raggiungerlo con una potenza superiore fisicamente. Comprenderlo significa crescere dentro di sé e gli hindu ritenevano che i raggi di tutte le forme di vita in natura convergono nella coscienza dell'uomo e che quindi l'uomo può risolvere l'enigma di qualsiasi problema semplicemente accettando la energia di quel problema e la graduale interpretazione corretta di quell'energia attraverso le funzioni della coscienza. Per Gli orientali quindi la luna può essere compresa attraverso la condivisione effettiva del suo campo energetico e l'interpretazione intelligente di questa energia. Gli hindu mai penserebbero che sarebbe impossibile per la coscienza proiettarsi sulla luce e raggiungere la luna e qualche tempo fa ho parlato con uno studioso che aveva lavorato molto sulla filosofia indiana mi ha detto sorridendo stiamo sprecando molto tempo facendo un lavoro tremendamente duro che è totalmente inutile se stiamo cercando di scagliare un proiettile fisico su un altro pianeta quando in realtà abbiamo già dentro di noi la capacità di conoscere appieno quel pianeta e di muoverci tranquillamente e pacificamente su di esso se lo desideriamo. la risposta risiede sempre all'interno nell'uomo stesso questa possibilità di proiettare la coscienza lungo il moto inverso dei campi energetici significa semplicemente che l'uomo deve passare dalla conquista dell'ambiente allo sviluppo di sé e che conducendo così le sue ricerche quasi tutto quello che ora realizza meccanicamente può essere realizzato intuitivamente può trasformare la sua intuizione in un grande campo di ricerca e può trovare metodi scientifici assoluti per esplorare le aree più remote semplicemente attraverso la proiezione della propria coscienza questo però non lo ha ancora imparato e forse sarà ancora così per un po' di tempo ma si sta muovendo verso di questo perché uno dei modi in cui la coscienza viene proiettata è attraverso la familiarità e l'uomo alla fine scoprirà che questo svilupperà modi intuitivi e super fisici per colmare l'intervallo l'uomo bloccato dal suo corpo deve portarlo con sé ovunque vada da qui la necessità di un mezzo di trasporto solido l'uomo avendo ottenuto la liberazione interiore dal corpo senza la morte imparando a proiettare la coscienza sulla luce separandola dal corpo può realizzare molte cose ora concepite come impossibili nel momento in cui lo riconosceremo sapremo che il potere nell'uomo che gli permette di conoscere qualcosa può essere sviluppato per consentirgli di saperne di più siamo stati semplicemente bloccati da sforzi esterni in questa particolare direzione Plutarco e il suo studio ad esempio sull'altro lato della luna o il lato oscuro della luna quello che non riceve i raggi del sole ci dicono qualcos'altro di interessante l'opinione generale l'opinione generale ora è che l'altro lato della luna sia proprio come quello che vediamo illuminato questo è un modo molto banale di vedere la cosa e al momento apparentemente inconfutabile ma siamo sicuri sia vero certamente non ci aspettiamo di trovare dalla parte opposta della luna qualche mistero irrisolvibile qualche strana situazione incredibile ma ad oggi non siamo ancora riusciti a vedere l'altra faccia della luna ciò significa che la luna riceve per la maggior parte dei suoi raggi riflessi dalla terra su se stessa prevalentemente su una superficie ora nessuna sfera nello spazio può ricevere le sue energie in modo coerente su un'area senza che quell'area non sia diversa dall'area su cui l'energia non cade o non si centra direttamente possiamo quindi supporre che la luna sia fortemente polarizzata e che una cosiddetta faccia della luna sia bombardata dalla terra molto più dell'altra e di conseguenza anche nei suoi campi chimici magnetici ed elettrici c saranno differenze molto diverse da quelli della terra quindi sarebbe del tutto possibile dire che l'altro lato della luna presenterà differenze vibratorie se questi mostrino qualche conferma fisica non lo sappiamo ma certamente c saranno reazioni diverse utilizzando strumenti come i contatori geiger e cose del genere come risultato dei raggi riflessi della terra che sono in gran parte limitati a una faccia della superficie lunare un altro problema sollevato da Plutarco e che penso forse valga la pena di considerare nuovamente è la possibilità che ci siano creature o esseri sulla luna più tardi naturalmente Cyrano de Bergerac nel suo viaggio sulla luna risolse senza dubbio questa questione ha detto che certamente ci sono delle creature e ha sottolineato che erano relativamente altamente evolute e in una fantasia le ha visitate e ha trovato tra loro il demone istruttore di Socrate ora questa è una favola ma mirata perché il potere intuitivo di Socrate sarebbe stato benissimo spiegato con il potere della luna quindi forse in qualche strano modo la sua intuizione era guidata dalla luna considerata ai suoi tempi una follia lunare ma ora riconosciuta come un grande contributo al bene umano in ogni caso Plutarco sottolinea che non abbiamo assolutamente alcuna garanzia che non ci siano esseri sulla luna fino a poco tempo fa abbiamo deciso arbitrariamente che sulla luna non c'era atmosfera recentemente però anche questo atteggiamento è stato modificato si presume ora che sulla luna ci sia un'atmosfera ma che sia estremamente attenuata e non sosterrebbe in alcun modo il tipo di vita che abbiamo qui che questa atmosfera sia molto molto sottile forse quasi simile alla nostra e al limite remoto del nostro campo atmosferico ma se arriviamo lì ed esploriamo e non troviamo alcun segno di vita è questa una prova che non c'è vita oppure dobbiamo supporre che per la luna come per altri mondi la vita sia un certo rapporto tra materia e coscienza sarebbe quindi del tutto possibile che la luna potesse essere popolata di esseri completamente al di fuori delle nostre dimensioni questo fu il primo pensiero di Plutarco sull'argomento e non abbiamo modo di valutarne la correttezza a meno che non troviamo qualche prova o qualche traccia ora supponendo che trovassimo qualche simbolo di qualche antica possibilità di abitanti sulla luna e nessun segno che quegli abitanti siano sopravvissuti a cosa ci troveremmo di fronte secondo i greci ci troveremmo di fronte ad un solo fattore e cioè che la mutata polarizzazione della luna aveva gradualmente forzato questa vita nell'atmosfera attorno al pianeta che la luna stessa fisicamente non più in grado di sostenerla avesse spostato la stessa nello spazio in quella zona dove la potenza negativa della luna e la potenza positiva del sole formano un equilibrio ovvero creano una zona neutra nella quale la vita può svilupparsi nel caso della luna potrebbe non essere sulla superficie potrebbe non essere sotto la superficie potrebbe trovarsi nel campo atmosferico che circonda il pianeta Socrate era dell'opinione ad esempio che sul pianeta Terra C fossero state ondate di vita e che man mano che le varie fasi geologiche dello sviluppo planetario ne modificavano la superficie queste venissero espulse e che quindi C siano zone di esseri viventi nella nostra atmosfera che non possiamo vedere perché si sono ritirate dalle forme tangibili che conosciamo ma secondo le proprie necessità vivono in un campo neutro creato dall'incontro delle energie terrestri e solari ad una certa distanza dalla superficie terrestre e che all'interno di questi campi hanno specializzato la propria esistenza con i propri campi sensoriali di cognizione e che per quanto li riguarda la loro vita è reale quanto la nostra ma non possiamo vederla quindi nel nostro viaggio nello spazio non solo dobbiamo essere preparati per i fattori fisici di altri mondi abitabili ma dobbiamo essere preparati anche per le mutazioni nella struttura fisica create da vari campi di energia e quindi dobbiamo sviluppare alcuni mezzi per estendere l'area della nostra percezione sensoriale ora probabilmente lo faremo all'inizio per mezzo di dispositivi di un tipo o di un altro che speriamo siano abbastanza sensibili da captare frequenze vibratorie oltre le nostre percezioni sensoriali alla fine tuttavia probabilmente scopriremo come ha scoperto l'India nelle sue discipline yogiche che l'unica risposta è acquisire un potere flessibile per cambiare con la volontà il proprio ritmo di vibrazione in certi campi sensoriali e quindi essere capaci di sintonizzare vari livelli di coscienza in questo momento a noi sconosciuti o oltre la nostra ragionevole percezione ora per quanto riguarda la luna per sua stessa natura è idonea a formare una grande esperienza psichica e forse diventerà uno dei fattori più straordinari per la reintegrazione della vita psichica dell'uomo metterà alla prova questa fase della sua natura e forse porterà all'apertura di nuove facoltà psichiche per l'ulteriore contemplazione dello spazio supponendo però che la luna non sia popolata di creature conoscibili creature come noi o quasi o caricature delle nostre stesse somiglianze allora senza dubbio ci spingeremo anche più lontano nello spazio forse non così rapidamente ma con la stessa inevitabilità supponiamo di entrare in contatto da qualche parte là fuori con un mondo popoloso sufficientemente simile al nostro da poterne sapere l'esistenza anche se potremmo non essere in grado di capirlo supponiamo che per la prima volta l'umanità si trovi faccia a faccia con un altro tipo di creatura una creatura completamente diversa da lui e tuttavia forse una creatura altrettanto razionale o più razionale ciò probabilmente si rivelerà uno degli shock più incredibili che possano verificarsi per la nostra integrazione psichica quasi sicuramente ci cambierà totalmente non sarà il semplice fatto che entreremo in affari con un nuovo vicino interplanetario o che faremo brevi viaggi nel fine settimana o forse in questo caso brevi viaggi di fine secolo perché alcune delle distanze saranno piuttosto enormi farà qualcosa che non siamo mai stati in grado di fare prima e cioè ascoltare una definizione di noi stessi da un diverso tipo di creatura molte persone darebbero molto per ascoltarla non molto tempo fa ho parlato con un fisico che mi ha detto che apprezzerei tantissimo il fatto che il mio cane potesse parlare e dirmi cosa pensa di me e del mondo in cui vive dice che di tanto in tanto vedo espressioni sul suo viso che mi danno seri dubbi ma non riesce a esprimerle a parole supponiamo di trovarci faccia a faccia con uno stile di vita totalmente diverso ma allo stesso tempo ugualmente o più fruttuoso del nostro supponiamo di arrivare su un pianeta con una grande cultura e l'ha perfezionata senza ricorrere ad alcun processo che conosciamo non l'ha costruita nello stesso modo non si è mossa da nessuno degli incentivi da cui ci muoviamo noi era completamente inconsapevole dell'educazione come la conosciamo e tuttavia era più saggio di noi evolvendosi e muovendosi da una prospettiva completamente diversa supponiamo di imbatterci in un pianeta abitato da una cultura molto avanzata che in tutta la sua storia non ha mai conosciuto la guerra cosa potremmo fare al riguardo voglio dire cosa ne penseremmo e cosa comporterebbe per il nostro modo di vivere supponiamo inoltre di entrare in una cultura in cui ogni valore che consideriamo importante sia stato scartato come barbaro e ogni valore che neghiamo o consideriamo privo di importanza sia stato altamente coltivato mentre guardiamo indietro alla storia nel nostro modo di vivere ci muoviamo sempre prima di sapere tutto il movimento nasce dalla pressione dell'ignoranza non dalla pressione della conoscenza pertanto abbiamo fatto piani prima di sapere come fare e poi abbiamo dovuto provare a farli funzionare o operare la civiltà è stata indirizzata nella direzione in cui si sta muovendo ora in un'epoca preistorica in cui nessuno sapeva come indicare razionalmente alcuna direzione la nostra unica speranza era che la nostra natura intuitiva fosse più vera della nostra ignoranza intellettuale ma qualcosa evidentemente non ha funzionato perché abbiamo prodotto uno stile di vita che è in miseria fin dal suo inizio e diventa sempre più confuso ogni secolo che passa supponiamo di trovare un altro mondo in cui tale confusione non esiste semplicemente perché un diverso atteggiamento di base sostenuto da un diverso campo di operazione psicochimico semplicemente non ha mai conosciuto i problemi che conosciamo non ha mai avuto le limitazioni che abbiamo noi e noi improvvisamente scopriamo che viviamo in una sorta di universo poliglotta un universo composto da una famiglia di mondi ciascuno con i propri ordini di vita cosa potrebbe comportare questo per la religione ecco una domanda che tipo di religione è stata sviluppata sugli altri pianeti qual è l'atteggiamento fondamentale degli altri mondi nei confronti di ciò che chiamiamo sacralità credono in dio ne sanno molto più di noi ne sanno di meno stiamo entrando in un vasto mondo materialistico o stiamo entrando in una sfera di cui forse siamo gli ultimi membri ottenebrati in altre parole le nostre teologie si adatteranno ad una vita familiare interplanetaria ci sveglieremo e scopriremo che tutto lo spazio sostiene la nostra fede o ci sveglieremo e scopriremo che questa fede è totalmente all'interno del nostro ambiente se è così avanzeremo verso una fede più grande oppure tutte le cose che scopriremo saranno inclini a demolire la fede che abbiamo sarebbe mia opinione ed è certamente quella degli hindù e anche degli egiziani che hanno speculato su queste cose che questi altri mondi che percepiamo intuitivamente abbiano fede hanno il riconoscimento di qualcosa di superiore a loro stessi ma se sono più grandi di noi sono meno superstiziosi e naturalmente questo avrà un notevole impatto ed è una vera questione quanti missionari inizieremo a inviare loro e c'è sempre la possibilità che ce ne mandino qualcuno e questa potrebbe essere una situazione molto confusa supponiamo che all'improvviso scoprissimo che su questi altri mondi la società ha raggiunto un grado di integrità integrazione e unificazione fondato su una convinzione spirituale a noi totalmente sconosciuta ma allo stesso tempo una convinzione che ha prodotto prove inconfutabili della sua superiorità cosa faremo? saremo in grado di ampliare la nostra fede per incontrare la loro? ci sarà un impatto frontale in altre parole il viaggio interplanetario cambierà il nostro atteggiamento verso la divinità verso la creazione verso la procedura universale causa ed effetto tutti questi grandi fondamenti etici spirituali della nostra cultura sembrerebbe quasi certo che verranno cambiati ma non è sicuro che possano essere distrutti perché se l'istinto spirituale fondamentale dell'uomo nasce da un fatto universale allora quell'istinto sarà presente anche negli altri o in altre specie ma questo istinto si svilupperà sicuramente in modo diverso a causa di problemi diversi un popolo che non ha mai conosciuto la guerra potrebbe non conoscere mai l'odio e quindi potrebbe non avere i problemi che abbiamo noi quali sono i problemi delle persone diverse da noi? ci sono mondi di problemi di cui non sappiamo nulla o scopriremo che questa famiglia planetaria poiché dipende da un sole per la sua luce e vita è essenzialmente molto simile sarebbe mia opinione ed è certamente quella degli hindù e anche degli egiziani che hanno speculato su queste cose che questi altri mondi che percepiamo intuitivamente abbiano fede hanno il riconoscimento di qualcosa di superiore a loro stessi ma se sono più grandi di noi sono meno superstiziosi e naturalmente questo avrà un notevole impatto ed è una vera questione quanti missionari inizieremo a inviare loro e c'è sempre la possibilità che ce ne mandino qualcuno e questa potrebbe essere una situazione molto confusa supponiamo che all'improvviso scoprissimo che su questi altri mondi la società ha raggiunto un grado di integrità integrazione e unificazione fondato su una convinzione spirituale a noi totalmente sconosciuta ma allo stesso tempo una convinzione che ha prodotto prove inconfutabili della sua superiorità cosa faremo saremo in grado di ampliare la nostra fede per incontrare la loro ci sarà un impatto frontale in altre parole il viaggio interplanetario cambierà il nostro atteggiamento verso la divinità verso la creazione verso la procedura universale causa ed effetto tutti questi grandi fondamenti etici spirituali della nostra cultura sembrerebbe quasi certo che verranno cambiati ma non è sicuro che possano essere distrutti perché se l'istinto spirituale fondamentale dell'uomo nasce da un fatto universale allora quell'istinto sarà presente anche negli altri o in altre specie ma questo istinto si svilupperà sicuramente in modo diverso a causa di problemi diversi un popolo che non ha mai conosciuto la guerra potrebbe non conoscere mai l'odio e quindi potrebbe non avere i problemi che abbiamo noi quali sono i problemi delle persone diverse da noi ci sono mondi di problemi di cui non sappiamo nulla o scopriremo che questa famiglia planetaria poiché dipende da un sole per la sua luce e vita è essenzialmente molto simile i greci erano dell'opinione che psichicamente tutti gli esseri in un sistema planetario hanno una certa somiglianza quindi che in realtà internamente tendiamo ad essere più simili di quanto lo siamo esternamente ed è molto probabile che ciò che troveremo sia lo stesso tipo di individuazione che troviamo in relazione alle persone non esistono due persone uguali pur operando con un contenuto psichico molto simile pertanto è possibile che gili esseri su questi pianeti modificati fisicamente dai vari ambienti in cui esistono e modificati psichicamente da questi ambienti e dalle pressioni dei problemi che hanno dovuto affrontare possano ancora avere un nucleo psichico molto simile e quindi saranno capaci di scambio psichico con l'uomo sia che conosciamo la loro lingua sia che parlino o meno una lingua gli indiani credono che su alcuni di questi pianeti esistono esseri che considereremmo dei e tuttavia nel loro mondo essi non sono considerati dei sono esseri dotati di facoltà e poteri in piena funzione che conosciamo solo come miti e leggende se così fosse la dimostrazione di queste facoltà e poteri potrebbe a sua volta cambiare completamente il movimento della civiltà se gli esseri umani credessero davvero che la cultura interna è più importante della difesa di quella esterna e si impegnassero concordemente in tal senso cominceremmo senza dubbio a crescere come esseri piuttosto che semplicemente ad estenderci come culture se riusciamo a trovare quindi nel nostro viaggio nello spazio prove a sostegno di ciò è probabile che cambi il nostro intero modo di vivere presumo che semmai dovessimo incontrarci faccia a faccia come popolo con una cultura di un altro pianeta e scoprire che quella cultura possiede valori di qualsiasi tipo che noi non possediamo o se ottenessimo soluzioni a qualsiasi problema che non abbiamo risolto ciò questo contatto immediato potrebbe essere l'evento più sconvolgente della storia perché significherebbe senza dubbio il cambiamento graduale ma inevitabile di ogni istituzione che possediamo e potrebbe se fosse del tipo più fortunato spingerci al più grande progresso che abbiamo mai conosciuto dovremo quindi competere con lo spazio invece che con il nostro vicino dovremo sviluppare virtù che vanno oltre quelle che semplicemente modelliamo sulla condotta dei nostri amici questo contatto questo concetto di vita totale può anche aprirci campi della scienza dispiegati in altri mondi sviluppi di ogni genere consegnandoci molto rapidamente un'eredità quasi al di là della nostra comprensione potrebbe anche metterci di fronte a grandi problemi con prove dell'audacia dei nostri sforzi dove potremmo risvegliare qualche mostro addormentato potremmo trovarci a contatto con modi di vita non desiderabili nei quali dobbiamo imparare a controllare in qualche modo per preservare la nostra stessa esistenza è un gioco pericoloso quello a cui stiamo giocando ma la nostra speranza risiede forse nell'antica convinzione che non può essere un gioco fatale perché tutto questo gruppo a cui stiamo pensando dipende da un nucleo psichico di vita solare il sole che l'integrazione fondamentale dell'energia solare stessa sostiene tutte queste vite pertanto devono avere qualcosa in comune devono avere determinati valori interni che condividono e poiché hanno un'unica alimentazione il loro interno psichico deve essere in una certa misura compatibile tutta questa procedura può quindi far sì che il peso dei rapporti non sia sulle strette di mano e sui trattati ma sulla compatibilità delle nature psichiche interne la nostra diplomazia dovrà essere a livello della nostra unica funzione ciò sarà imbarazzante per alcune persone che non si sono specializzate in questo campo ma potrebbe ancora una volta mettere a dura prova il tipo di crescita di cui abbiamo bisogno si sta gradualmente arrivando al punto in cui la vita planetaria è troppo provinciale per noi stiamo cercando di raggiungere un mondo più vasto un'esperienza più ampia e in questo momento critico questa esperienza può salvarci dal tremendo blocco delle risorse che minaccia di distruggerci oggi facendoci cadere totalmente per così dire in un'economia materialistica se la nostra scienza sviluppando i suoi strumenti scoprisse un nuovo modo di vivere non secondo la nostra teoria scientifica ma secondo un piano universale operante nello spazio potremmo essere in grado di utilizzare questo piano per correggere la nostra stessa scienza e salvare la nostra pelle che al momento è un po' in pericolo se guardiamo questo con interesse ci rendiamo conto che gli antichi lo contemplavano con una certa attenzione e che la loro opinione finale era che questi pianeti sono abitati che alcuni di questi esseri sono più grandi di noi altri meno di noi e che quelli che sono più grandi di noi siano già stati qui siano venuti e partiti silenziosamente sulle onde dell'energia e sui vari mezzi che possiedono sono stati in comunicazione con noi ed è attraverso di loro le grandi filosofie e dottrine del mondo sono state in una certa misura integrate è attraverso di loro che ci è giunta in eredità la nostra conoscenza metafisica queste comunicazioni hanno attraversato il campo psichico dell'uomo e si sono protraggono da tempo immemorabile e che quindi essenzialmente le rivelazioni dei principi che abbiamo non sono incompatibili con i principi di una religione filosofica solare di conseguenza i nostri grandi shock avverranno all'esterno ma se cerchiamo di affrontare queste cose con comprensione scopriremo che questa esplorazione del sistema solare non sarà più pericolosa di quanto si potrebbe ragionevolmente aspettarsi ma che se troviamo certi mondi decadenti mondi come i nostri vecchi magari con equipaggiamenti diversi che però sono diventati forti nella decadenza e nel materialismo allora potremmo trovarci di fronte ad un conflitto terribile un conflitto di un potere o abilità contro un altro ma questo conflitto ha come ha sottolineato un vecchio saggio una situazione incoraggiante chiunque voglia combatterci non ne sa più di noi il fatto che combatterà lo mette al nostro livello l'individuo che sa più di noi in una grande famiglia non tenterà di dominare ma tenterà di insegnare è il livello della conoscenza la persona che vuole dominare è molto più in basso di livello e se contattiamo coloro che desiderano distruggere potremmo essere in grado di resistere se tuttavia entriamo in contatto con ciò che è superiore a noi lo faremo senza pericolo perché qualsiasi cosa che sappia più di noi saprà troppo per essere uccisa quindi nello spazio potremo avere amici e nemici i nostri amici dovrebbero essere più saggi di noi e i nostri nemici stupidi quanto noi quindi su questa base abbiamo la speranza di sopravvivere stiamo entrando in questa grande era di cambiamento il nostro pensiero ne è già influenzato alla fine la nostra filosofia la nostra religione la nostra educazione tutto ne sarà influenzato ma tutti questi cambiamenti portano con sé maturità portano con sé una maggiore comprensione e da una maggiore comprensione nasce la crescita e la crescita vale tutta la tensione lo stress e il dolore che dobbiamo spendere per ottenerla perché alla fine della crescita e solo alla fine della crescita c'è la pace che cerchiamo se vi piace il progetto di tradurre Manly P. Hall in italiano vi prego di supportare il canale attraverso una donazione libera troverete il link in descrizione utilizzare queste nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale è molto costoso richiede tempo ed astuzia per poter ottenere risultati soddisfacenti il mio obiettivo con il progetto Manly P. Hall in italiano è rendere la conoscenza esoterica fruibile a tutti gli italiani senza barriere linguistiche grazie per il vostro supporto grazie a tutti